Musica Mi piace il computer, ma non mi piacciono le persone cattive, non mi piacciono le parolacce, non mi piacciono le guerre, non mi piace la distruzione della natura, mi piace l'India, mi piace la nero colore, non mi piace la cattiva parola, non mi piace essere insultato, mi piace dormire. Il dolce è fare i compiti, però mi piace andare indietro. Anche le piccole cose sono importanti. E' importante! Ok, poter dire quello che ti piace o non ti piace. Nella libertà di esprimersi dici anche delle piccole cose. Mi piace! Non mi piace! Mi piace l'impasto! Non mi piace! Non mi piace! Mi piace la Nutella Mi piacciono gli aerei Mi piace quando vengono E' importante Poter esprimere la propria idea Poter pensare con la propria testa E' importante Ci sono posti in cui le leggi ti impediscono di esprimerti Sia con le parole che in altri modi Come per esempio vestirsi e esprimere le proprie scelte In alcuni posti se hai un'idea diversa non la puoi dire In altri tempi se avevi un'idea diversa non potevi parlare E' importante E' importante Essere consapevoli che se oggi possiamo scegliere E' anche grazie alle conquiste fatte nel passato Nel dicembre del 1947 viene firmata la Costituzione Io ho possibilità di pensare, scegliere, esprimere e di sentire Avere una idea diversa L'articolo 21 dice che E' un'idea diversa non la puoi dire Grazie a tutti Grazie a tutti